e oggi parlo da sola sono andata sono andata all'uffizio ufficio postale poste giapponese ho spedito un impacchetto e poi ho coccolato un cognillo mio e basta non ho fatto tante cose oggi oggi ho notato che c'è una cosa che voglio fare ballare la danza dell' Austin Powers Austin Powers è un film da quale film inizia dalla danza in modo da anni s... anni s... anni s... mi piace tanto quella danza tantissimo quindi voglio imparare come come ballare quella danza guardando un video su youtube non so se è possibile per me ma... proverò per me stessa... va bene... per oggi è tutto... grazie... 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 grazie...